Questo governo ha iniziato un processo, lo deve anche concludere. C'è qualcuno che discuta del fatto che la pratica se resta a cavallo tra due legislature, tra questa vecchia e la nuova, comunque avrà efficacia. A me non interessa niente. Ha iniziato politicamente questo percorso, lo porti alla Camera e lo concludi politicamente. Se noi siamo autonomi è ovvio che a cascata distribuiamo risorse ai territori. Se non siamo autonomi facciamo nozze con i fichi secchi e quindi c'è sempre qualcuno che diventerà confinante di una provincia autonoma e che chiederà di andare via. Intanto dalla Prefettura arriva la nota di sospendere l'attività informativa sulle modalità di voto dopo lo stop del governo all'uso della tessera elettorale e sulla questione il Presidente Zaia non usa mezzi termini. Questa è una piccola miseria umana che Roma ha messo in piedi per far credere che non è un referendum ufficiale. I Veneti dalle 7 del mattino alle 23 di sera, quindi alle 11 di sera, il giorno 22, vanno nei seggi dove hanno sempre votato. Troveranno la matita copiativa, la scheda, l'urna, la cabina elettorale, gli scrutatori, il Presidente di seggio e anche le forze dell'ordine che fanno ordine pubblico. Penso basti no? Si debbono andare con un documento valido e vanno nel seggio indicato da tessera elettorale. Per votare serve la matita copiativa e la scheda.